Ragazzi, questo video è doveroso perché nelle ultime ore è successo il delirio In poche parole è stato confermato un annuncio in arrivo questo venerdì ai Game Awards E sappiamo anche molto bene, quasi con certezza assoluta, di cosa si tratta Ma non perdiamo altro tempo perché c'è tanto veramente di cui parlare in pochissimo tempo Quindi io sono Nico di Sonic Team Vlog e ora vedremo tutto questo insieme Tutto nasce circa ieri mattina, quando al database di Steam di Sega è stato aggiunto un nuovo gioco di Sonic alla lista Praticamente ora risultano 35 giochi nel database, quando in realtà ce ne sono tipo 34 disponibili al pubblico E quindi la gente si è iniziata a chiedere, ma non è che verrà annunciata Game Awards? Poiché anche nella sezione Atlus è successa una cosa simile Bene, qualche ora dopo il Twitter ufficiale di Sonic posta questo post In cui chiede a Giof Kigli, che è praticamente il presentatore dei Game Awards Se ci fosse un posto in più dentro il programma E si scambiano delle risposte confermando che Sonic sarà presente ai Game Awards Ma a questo punto vi chiederete che cosa vedremo ai Game Awards di Sonic Praticamente abbiamo una risposta super precisa di che cosa vedremo Perché sostanzialmente 1. è stata aggiunta al database di Steam un gioco E 2. è stato registrato un dominio chiamato frontiers.sonicdhedgehog.com E se provate ad accederci adesso, con il vostro browser, vi dirà accesso negato Ma il fatto che lo faccia è perché questo dominio esiste ora Perché se per esempio andassi a cercare origins.sonicdhedge.com La pagina sarebbe inesistente Quindi si vede che si stanno muovendo per aprire questo dominio E il comitanza con questo annuncio, diciamo che fate 2 più 2, è abbastanza logico E' molto improbabile che si tratti di origins, anzi non penso proprio perché il dominio non esiste banalmente E' un evento come i Game Awards, diciamo che non porterei una semplice remaster di giochi Quasi certo che avremo il trailer e il titolo finale di frontiers Anche se ormai sembra essere appunto frontiers il titolo Quindi non ce ne è anche da discutere troppo E che cosa ne penso? Beh ragazzi, innanzitutto che il fatto che stiano portando questo gioco O comunque il trailer ai Game Awards fa capire quanto vogliono fare sul serio O almeno pensino che il target di questo gioco sia ampio Nel senso che essendo una nuova tipologia di Sonic, di gameplay E non la solita cosa di micchia come è stato negli ultimi anni Vogliono mostrare al mondo la nuova frontiera Il problema di questo evento in realtà, per noi italiani, è l'ora Perché sostanzialmente va dalle 2 di notte del venerdì Alle 5 di notte del venerdì sempre E quindi diciamo che sarà un po' difficile seguirlo Infatti io non credo lo seguirò in diretta Ma probabilmente mi sveglierò e guarderò il trailer banalmente quando uscirà E prima che qualcuno lo chieda No, non penso proprio si tratti del film Perché essendo a Game Awards sarebbe un po' strano mostrare il film Soprattutto perché se no la pagina del film di Twitter esiste Probabilmente sarebbe stata lei a twittare dei Game Awards Fatemi sapere però voi cosa ne pensate Se siete a questo punto in hype per questo annuncio imminente a sorpresa In arrivo che sinceramente non mi aspettavo Avremmo visto già subito Però sono molto contento Perché vuol dire che la release forse non è poi così lontana quanto credevamo Ormai manca veramente veramente poco a questo trailer 3 giorni Perciò aspettiamo e vediamo cosa ha in servo il franchise e il futuro di Sonic per noi Noi ci vediamo lì ragazzi Ma soprattutto ci vediamo alla prossima Grazie a tutti